Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito Bene un vargo e si infila in dribbling Tocco per il... può tentare la conclusione E c'è il gol Vantaggio di due gol, la partita si mette in discesa Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida